Buongiorno, buongiorno, oggi è martedì 12 luglio, rassegna stampa di video 33, cielo nuvoloso su gran parte del territorio alto tesino, tornerà a tratti il sole, non si escludono temporali come nella giornata di ieri, temperatura inflessione, temperature massime inflessione rispetto proprio alla giornata di ieri, alcune notizie purtroppo di cronaca nera in apertura, investimento mortale nella tarda serata di ieri nella zona di Villa Ottone in Valle Aurina a perdere la vita a un uomo di 70 anni. Frana, Frana in Valpusteria intorno alle 1.30 questa notte nella zona compresa tra Rio, Pusteria e Vandoies la strada è rimasta chiusa alcune ore, intorno alle 7 è stata riaperta una corsia, nessuno è rimasto ferito, allagamenti di cantine cause forti temporali sia in Valpusteria sia in Alta Val Venosta. In regia abbiamo Massimo Moro con il suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che oggi troviamo in edicola il Corriere dell'Alto Adige. L'incontro tra l'assessore provinciale Valtrad Deghe e la ministra Madia avanza il patto generazionale. Aeroporto, il CDA si dimette in blocco, lo scalo contestato. Piano Sinfonia, stop del comune, finanziamenti romani, caramaschi, temeri tardi, non anticiperemo i 18 milioni di euro. Uno studio che porta la firma dell'Eurac riguardo l'indotto creato dai ritiri delle big del calcio italiano e non solo, in provincia di Bolzano. La cronaca cura dell'Alto Adige, il terribile incendente stradale di ieri in autostrada dove ha perso la vita un ragazzo di 14 anni, si schianta un furgone alla guida il fratello della vittima. Intervista in esclusiva raccolta da Marangoni a pagina 35, intervista esclusiva ad Alex Schwarzer, io sono pulito, voglio andare alle Olimpiadi. E poi Mario Tozzi, il noto geologo e divulgatore scientifico, dice sui passi dolomitici ticket e numero chiuso. La cronaca linguatresca cura del quotidiano dolomite nel futuro, della gestione del trasporto pubblico in provincia di Bolzano, nel rispetto delle direttive europee. E ancora una fotonotizia per raccontare la tragedia che si è consumata ieri in autostrada dove ha perso la vita un ragazzo di 15 anni. Chiudiamo con il quotidiano Tagest Zeitung, la politica in apertura, il futuro proprio politico di Elena Artioli, dettagli a pagina 2 e 3. È tutto, io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33.